Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 settembre, vediamo che cosa c'è sui giornali, aspetta che metto bene anche qua su Instagram, la cosa fondamentale è la cosiddetta questione, cappato, fine vita, eutanasia. Che cosa è successo? Ieri c'è stata una sentenza che i giornali, il Corriere della Sera ma tutti gli altri non esitano a definire storica, sulla non punibilità di chi agevola il suicidio assistito. Sto leggendo le prime frasi più tecniche del Corriere della Sera. Tutti voi vi ricorderete che c'è un DJ Fabbo che in un incidente stradale rimane di fatto distrutto, la sua vita è distrutta, viene tenuto in vita dalle macchine, la sua fidanzata e lui decidono di voler morire, si affidano all'associazione per il fine vita dei radicali e di cappato, una volta che si affidano a questa associazione fine vita vengono portati in Svizzera, lui con il morso, il DJ Fabbo, sostanzialmente si suicida in Svizzera in modo assistito, processo nei confronti di cappato che aiuta a fare questa scelta di morte e la Cassazione ieri finalmente, nel senso che dopo mesi dice che non è punibile ed è perseguibile il cappato. In sostanza, in realtà, e andiamo sempre sulle questioni tecniche, la Corte di Cassazione aveva già stabilito che l'articolo 580 del codice penale che punisce, che aiuta o istica il suicidio era in certe sue componenti incostituzionale. Sostanzialmente non è che si lascia adesso il libero suicidio nel libero Stato. Ci sono anche per la sentenza della Corte di Costituzionale quattro gravi paletti per poter procedere all'eutanasia. Deve essere una patologia irreversibile, quindi tu non puoi essere depresso un secondo, ma deve essere irreversibile la malattia che hai. Ci devono essere delle sofferenze psichiche e fisiche mostruose, secondo la decisione della Corte di Cassazione Costituzionale per poter procedere all'abolizione dell'articolo 580 del codice penale. Ci deve essere la tenuta in vita del soggetto che vuole morire in modo artificiale. Infine, la scelta da parte di chi vuole morire deve essere libera, autonoma e consapevole. Insomma, se ci sono queste quattro condizioni, in Italia è possibile adottare e suicidarsi, secondo una sentenza della Corte storica, obiettivamente della Corte Costituzionale di ieri. Ovviamente ci sono i cattolici, l'avvenire, i vescovi, arrabbiatissimi, intervistati un po' da tutti i giornali, perché obiettivamente è il loro DNA, è il loro mestiere. Se i vescovi non dicono questo, tutto sommato ci verrebbe da stupirci, anche se i giornali di destra, che sono più vicini al sentimento cattolico, conservatore, penso al giornale, alla verità, al libero, alla fine avendo i loro direttori, che conosco bene, molto progressisti in termini di diritti civili, l'unica cosa che contestano è che su questa vicenda del fine vita si è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione e non ci sia stata una legge da parte del Parlamento, Parlamento che ha avuto molti mesi per poterla fare e non l'ha mai fatta, perché la stessa Corte Costituzionale ha chiesto al Parlamento di legiferare, perché vi è un vuoto normativo, sostengono su questa vicenda. Flick dice oggi ben venga comunque l'idea della Corte Costituzionale che ha legiferato in questo senso. A naso l'idea che in un sistema non di common law, cioè il nostro sistema non è quello anglosassone e quello latino, per cui sono le norme che ci guidano e non le interpretazioni delle norme, le consuetudini e il loro evolversi nel tempo attraverso ordini spontanei e aiechiani, insomma in un paese in cui sono le norme e regolamenti che ci governano, effettivamente l'idea che una materia così delicata sia affidata a una sentenza della Corte di Cassazione e Costituzionale può lasciare perplessi. Detto questo, intervista di Cappato oggi, titolata da Repubblica, rischiavo 12 anni, perché è il rischio che lui ha avuto nell'aver aiutato al suicidio di Jay Fabo, ma dice il titolo di Repubblica, Cappato stesso che porta il suicidio di Jay Fabo, dice ma comunque io dico sempre di no a chi non è malato. Ecco, io poi cerco questa frase importante di Cappato all'interno del pezzo e non la trovo esattamente come nel titolo, cioè nel titolo dice va bene il suicidio assistito però soltanto se quelle condizioni che peraltro ha già deciso la Corte Costituzionale, cioè l'irreversibilità, la sofferenza della malattia, beh solo se ci sono queste condizioni io posso aiutare al suicidio assistito, ma chi non è malato in queste condizioni, per carità, no, in realtà questa cosa che non è di poco conto non la trovo bene scritta nell'intervista di Cappato ma soltanto nel titolo. Consumiamo, mi diverte molto sulla questione, sul gretinismo che ci ha ormai colpito a tutti quanti, è molto divertente Danilo Taino oggi sul Corriere della Sera che col suo modo sempre elegante, signorile, intelligente di trattare i temi, cioè direi un po' l'opposto della mia volgare, anche sul sito io attacco Greta in maniera forse qualche volta un po' scomposta, però comunque oggi è favoloso Taino perché fa vedere quanto CO2 consumano gli aerei privati di Stato, dei grandi capi di Stato che sono andati all'ONU per ascoltare le minchiate di Greta, consumano e bruciano più CO2 di quanto voi possiate immaginare. La cosa invece che mi fa veramente venire il sangue al cervello, sangue al cervello, è Fioramonti che è molto peggio di Toninelli, si sta dimostrando molto ma molto peggio di Toninelli. Chi è questo Fioramonti? È il nostro ministro della pubblica istituzione e questo genio totale, questo che la sua esperienza è stato avere un dottorato, insegnava un liceo del Sudafrica dove sarebbe potuto rimanere a insegnare i sudafricani e non avrebbe fatto nessun etto di danno, è il politicamente corretto della minchia che voi potete immaginare, ma molto, ma molto, ma molto peggio di Toninelli. Chi si prende come consulenta, e ce lo spiega oggi un pezzo bellissimo di Bucci sul foglio quotidiano che vi invito a leggere, questa Vandana Shiva. E voi direte, chi cazzo è? Chi cazzo è Vandana Shiva? È un'attivista indiana e già pensi che sia, capito, quella che lavoravano con Verdone negli anni 70, capito, c'è tutto quanto il periodo in cui io mi sentivo molto libero. È quella roba là! E ce la troviamo nel 2020 al Ministero della Pubblica Istituzione. Tra le altre cazzate che è scritto questa bugiarda, bugiarda, è che gli olivi in Puglia non muoiono per la xylella e grazie a questa cazzata questa malattia si è diffusa e si diffonderà e arriverà anche nel nord della Puglia, ma soltanto per l'utilizzo della chimica. Brava, brava Vandana Shiva. E quella che ha spiegato che c'erano i suicidi in India dei coltivatori derivanti dall'introduzione del riso OGM? Falso! Gli hanno dimostrato che era totalmente falso. E quella che diceva che il glifosate, che è un diserbante che l'Europa adotta e in certe dimensioni è molto meno, diciamo, invasivo e grave su utilizzo rispetto ai precedenti diserbanti, dice che il glifosate era legato a autismo, malattie dei reni, aveva inventato tutta una serie di cazzate per le quali tutti voi ci credete. La xylella non è colpa della xylella e della chimica, tutti voi no, quelli che vedete la zuppa. Il glifosate fa male, tutti lo pensano, le piante OGM fanno male, portano al suicidio i poveri contadini. Ecco, questo genio che dice le cose giuste nel momento giusto, che piazzano ai cazzoni, che vanno a fare le manifestazioni per strada, ecco questa qua è consulente del ministro della pubblica istruzione. Ovviamente sono tutti furibondi per questa nomina. Non so se lo sia Di Maio, che ieri invece ha avuto un altro tempo a New York per dire che l'80% del partito è con lui. Insomma, siamo in piena democristianizzazione del Movimento 5 Stelle. Vi segnalo poi che il Nadef, che è il documento in cui sono tutti i numeretti fondamentali della finanziaria, che doveva essere presentato domani, questo governo dice che non ha tempo, lo presenterà lunedì. Se l'avessero fatto gli altri, gli avremmo fatto un mazzo così. Il PD resiste a questo tentativo di fare le manette agli evasori, secondo il titolo del Fatto Quotidiano, ebbene fa Maratin e Bazzoli a resistere, perché non si tratta di mettere le manette agli evasori e di capire se quello serve a combattere l'evasione, mentre rispunta sul messaggero quelli del fatto non lo sapevano, fantastico, una nuova rottamazione delle cartelle. Se così fosse ci sarebbe da ridere. Comunque sia, il Nadef terrerà i numeri fondamentali, li vedremo lunedì e capiremo, ad esempio, come faranno a trovare questi 23 miliardi per congelare l'aumento dell'IVA e ulteriori 7, 8, 10 miliardi per fare quelle riduzioni fiscali che ci hanno promesso. E quali aumenti di tasse ci saranno? Tutto questo lo vedremo più o meno in grandi termini nel Nadef, che Lerner dica che il governo firmi la pace con le NG, oggi su Repubblica è una cosa scontata e potete risparmiarvela, potete immaginare che cosa dice. Sembri quasi sgarbi a livello di parolacce, Maria Grazia, scusami, non ne dico più, ma mi fa venire il sangue al cervello quando pensi che un attivista indiana si occuperà della nostra ricerca scientifica, della nostra cultura, del nostro progresso. E poi l'ultima cosa che mi diverte farvi vedere è il Daily Mail, che come voi sapete ce n'è un'altra alla fine che mi tengo il piccolo, diciamo, ciliegina. Il Daily Mail dice a me, inglesi, noi vogliamo votare! Mi viene da ridere come il giornale popolare inglese, un po' la pensi come i sovranisti italiani, mettiamolo così, che pensano di essere stati scippati dal voto. In realtà poi vi segnalo che la verità oggi riguarda la questione di Lerner bisogna fare sull'NG, ha scoperto che negli accorti di Malta ci sarebbe un paradosso che sarebbe il seguente, e cioè che noi dovremmo prenderci anche alcuni immigrati redistribuiti da Spagna e Grecia, perché se si adotta questa redistribuzione, siccome Spagna e Grecia oggi stanno beccando più immigrati di noi, noi dovremmo prenderne alcuni dei loro, sarebbe fantastico. Cioè abbiamo fatto un accordo a Malta per prenderci la redistribuzione dei migranti degli altri. La LUIS, che è la prestigiosa università privata della Confindustria che ha cacciato Gervasoni e che si è rifiutata di presentare il mio libro La disuguaglianza fa bene dopo che degli studenti mi avevano invitato anni fa, la LUIS, di cui qualcuno mi scrive indignato su LinkedIn, c'è una specie di catena di questi di LinkedIn, mi sento offeso di come hai trattato la LUIS, io non tratto male gli studenti della LUIS, né tutti i professori della LUIS, ce ne sono di ottimi, io tratto male un'istituzione che non considera il frispice, quindi la possibilità di Gervasoni dire quello che vuole su Twitter, una università sana. Questa è un'università marcia pagata con i soldi di Confindustria e anche quelli evidentemente di Lottomatica che fa una bellissima iniziativa con la LUIS che oggi è pubblicizzata sui giornali, pubblicità della LUIS in cui dice ragazzi venite a fare un bando per uno stage retribuito, non so dove, probabilmente in Lottomatica, quindi la cosa è stupenda, però io mi permetto di dare a tutti quelli che vogliono passare a questo bando un consiglio, in un'università che caccia un professore per quello che scrive su Twitter, state molto attenti a quello che scrivete su Twitter, perché avete perfettamente capito e questo è il dramma di un'università libera, un'università che manda a fanculo un professore perché quello dice delle cose su Twitter, secondo voi quell'università è tanto libera, è tanto aperta da poter accettare e dare dei soldi a degli studenti che con un bando sono reclutati se loro dovessero avere delle posizioni sovraniste men che mai politicamente corrette sul loro pagina Facebook o Twitter? Allora, è legittima questa nostra domanda o no? Cerchiamo di capirla, uno studente che non la pensa come il nuovo Max Weber della LUIS, Fabbrini, presidente, uno che non la pensa politicamente con quel europeismo che non si capisce nel titolo del Max Weber della scienza politica, secondo voi uno che non la pensa come lui, conviene che stia un po' zitto, ecco è questo il mondo universitario che vogliamo tra la LUIS e la attivista indiana di Fioramonti, tutti felici e contenti sul sito nicolaporro.it e tra poco un pezzo stupendo di Gian, il mio amico Desiderio, ciao!